Mi rimprovera del fatto che io a volte non ti chiedo aiuto, è vero. Non l'hai mai fatto? Cosa? Tu non ti sei mai affidata a me? Ma non è che lo faccio apposta, cioè quello che devi capire, non è che io lo faccio apposta perché non mi fido di te, così. Sei l'unico uomo insieme a mio padre di cui mi fido. Però non è facilissimo. Perché insomma la vita mi ha dato una corazza, mi sono dovuta creare necessariamente una corazza, ma lui lo sa benissimo. E io mille volte ho detto che lui ha una pazienza d'oro, perché quando noi ci siamo allontanati, in realtà lui ha tenuto sempre un po' questo cordone ombelicale. Ci siamo detti un miliardo di volte e non solo a parole, che forse ci siamo incontrati un po' troppo tardi nella vita. Non è un caso, è la destina che dovevamo stare insieme. Ma io ci credo, capito? Io ti amo e ho sempre detto che tu sei la donna della mia vita e tu hai detto la stessa cosa di me. Più che dirti che voglio renderti felice, perché voglio rendere felice te insieme a me. Non so cos'altro dirti. Ma io sono scesa col sorriso, perché per me non c'era neanche il dubbio. Io l'ho abbiata, l'hai visto. Sì l'ho visto, ma siccome sai chi sono io, sai chi sono io. Ti amo. Ciao. Ciao.